Negli anni da cittadino e poi da presidente ho messo la Val Polcevra al centro dei miei pensieri e del mio operato da assessore. Ogni quartiere della Val Polcevra è stato così rinnovato. Bolsanetto, Ponte Decimo con i loro centri, Certosa con le sue vie e con la ricostruzione e valorizzazione del chiostro della Certosa. Il rio Feggino è stato messo in sicurezza dal punto di vista ambientale e idraulico. Abbiamo già realizzato numerosi posteggi di interscambio per collegare al meglio la Val Polcevra. Realizzeremo nuovi progetti per migliorare la viabilità come a Teglia, dove sorgerà una nuova area che avrà una palestra per i ragazzi del quartiere. Abbiamo intenzione inoltre di rendere più belli e sicuri i paesi della nostra valle, come a Rivarolo, dove Piazza Paravicini avrà un volto completamente nuovo. La Val Polcevra quindi continuerà così a essere un luogo di lavoro. Realizzeremo presto la rete degli operatori artigiani ed ogni quartiere si sentirà parte di un'unica comunità. Il cuore di Genova per noi in ogni quartiere. Sono il candidato a sindaco per Genova per il centro-sinistra. Se anche tu ami la nostra città, il 25 giugno vota Gianni Crivelli.